Bene, con questo pezzo noi vi salutiamo, vorrei ringraziare con una volta il Gallo che è solo volevo dire che oggi per essere qui ha fatto una trans oceanica quindi c'è ieri, dove eri ieri? Santa Maria di Leuca Santa Maria di Leuca, vicino a dove c'è D'Alema? Non lo so Come c'è il mio Banfi? Iniziava lui C'è il mio Banfi Più lino che Banfi Bene, ecco, grazie ancora a tutti, grazie al Gallo Vi aspettiamo sabato a Verona andate su www.diapason.com dice l'indirizzo perché questo è un evento, è un evento proprio di quelli senza vento è proprio un evento senza vento a Verona c'è l'indirizzo, vai su www.diapasonband.com c'è la via, metti il navigatore, metti via guido di come dato apostrofo Arezzo Verona si si, puoi anche bere so che c'è anche il rabosello di scelta ecco si si c'è, c'è il rabosello e la spina che abbiamo già provato ieri quindi venite lì c'è Maurizio Solieri siamo noi c'è un palco c'è anche il palco perché c'è un palco con la P maiuscola e quindi ecco vi aspetta anche i cicci nudo credo vi aspettavi eh sì perché ovviamente casualmente gli si romperà la maglietta come tradizione in Borgo Santa Croce a Verona sabato quindi detto tutte queste cose sabato eh cos'è che tu volevi sabato è difficile perché c'è Maurizio Solieri